a oggi per me no l'opera ok ok basta, è noioso dopo a te vai qua nel video boh, che tu me lo dici come ti chiamo no no buono non 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 4 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 8 8 5 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 6 6 6 6 6 7 9 10 5 6 6 6 7